Sei mai andato a fare compere? Arr, i pirati hanno raggiunto l'isola del tesoro! Arr, come faranno i pirati ad attraversare e raggiungere il tesoro? Il ponte non c'è più! Arr, come faranno i pirati ad attraversare e raggiungere il tesoro? Il ponte non c'è più! No! Così non va bene! Mmm, ci sarà sicuramente almeno una pettinatura che stia bene a Dagi! Io sento aria di festa in arrivo, amici! Ciao! Noi siamo il team Umizumi e provate a indovinare? Oggi andremo a visitare... lo zoo! Per mille visti e bulloni, io adoro lo zoo! Ci sono molti animali bellissimi qui, come il zebra, le scimmie e i leoni! E tu sei mai stato lo zoo, amico Umizumi? Bene, oggi andremo a vedere alcuni cuccioli speciali nella loro casa tutta nuova! Se vuoi puoi venire a vederli con noi! Il miele è l'ultimo ingrediente della torta al miele di orso pupù! Tu devi assolutamente arrivare qui prima che aggiunga il miele! Dov'è Yoyo? Ecco Yoyo! Ancora! Dov'è Yoyo? Io sento aria di festa in arrivo, amici! Due, quattro, sei, otto! Questo è il bello matto! Vestizziamo un gran lavoro col bello matto! Ci divertiamo! Facciamo tutti un bello matto! Per inciso, non preoccupatevi per quel lupo affamato! Sei aggrappata a un arbusto e non morirà di fame, perché quell'arbusto fa delle bacche ogni autunno! Il miele è l'ultimo ingrediente della torta al miele di orso pupù! Devi assolutamente arrivare qui prima che aggiunga il miele! Io sento aria di festa in arrivo, amici! Oh, anche tu sei il nostro miglior amico, Bot! E tu che dici? Ce l'hai un migliore amico? Bene! Blaze, hai appena vinto il campionato mondiale di Monster Truck! Cosa farai dopo questa memorabile impresa? Blaze, hai appena vinto il campionato mondiale di Monster Truck! Cosa farai dopo questa memorabile impresa? Io sento aria di festa in arrivo, amici! Ciao! Io mi chiamo Millie e sono un piccolo super-erae! Io sono Joe! E io sono Bot! Insieme a noi siamo... Tilly, Moomy, Zoomy! Ho un'idea! Oggi faremo un picnic! Ti piacciono i picnic? Bene! Porteremo molte cose da mangiare per il nostro... I tuoi migliore hanno rivolto il pasolo! È un destino! Io amo le loro canzoni! Sì, è un creio! E tu, raccontami un po'! Ti piacciono le loro canzoni? Superomi! Allora ti piacerà lo spettacolo del Gossi Cocò! I tuoi migliore hanno rivolto il pasolo! È un destino! Eccellente! Hanno risolto il pasolo delle forme! È un alligatore! Il miele è l'ultimo ingrediente della torta al miele di Orso Pupu! Per inciso, non preoccupatevi per quel lupo affamato! Sei aggrappato a un arbusto e non morirà di fame! Perché quell'arbusto fa delle bacche ogni autunno! Sei mai andato a fare compiere? Il miele è l'ultimo ingrediente della torta al miele di Orso Pupu! Devi assolutamente arrivare qui prima che aggiunga il miele! Il miele è l'ultimo ingrediente della torta al miele di Orso Pupu! Devi assolutamente arrivare qui prima che aggiunga il miele! Il miele è l'ultimo ingrediente della torta al miele di Orso Pupu! Devi assolutamente arrivare qui prima che aggiunga il miele!